Dopo i pannelli posizionati lo scorso anno lungo il sentiero di Porta Castellammare Trechiese, lungo il versante nord-est del monte, il Lions Club di Trapani ha predisposto altre tabelle lungo il percorso CAI M601 di Sant'Anna che collega Trapani ad Erice, frequentato da molti escursionisti che adesso potranno anche fare riferimento sulle informazioni contenute in queste tabelle, con tante foto delle orchidee di Francesco Incagnone e di testi predisposti dal dirigente del comune di Erice, Salvatore Denaro. Ci sono dei testi in italiano e in inglese che fanno riferimento naturalmente alle orchidee, sia alle orchidee che nascono dalla parte di Monte Cofano, che guarda Monte Cofano, sia delle orchidee che nascono dalla parte invece che guarda le isolegadi. Il percorso è stato piuttosto semplice, noi abbiamo inserito dei testi e in particolare abbiamo con l'app QR Code inserito una serie di testi in italiano, in inglese, in francese e in tedesco, utili alla conoscenza non solo delle orchidee ma anche alla bellezza del paesaggio. Oltre al QR Code e la relativa app, i pannelli sono anche online sul sito del comune di Erice e ieri all'incontro del Lions Club è intervenuta anche la sindaca di Erice, Daniela Toscano, che si è soffermata sull'importanza dell'iniziativa. Noi ringraziamo il Club Lions di Trapani per questo sossegno, è il secondo anno, è un percorso iniziato lo scorso anno con Giacomo Tranchidi e anche quest'anno la mia amministrazione ha detto sì per la valorizzazione del percorso di Sant'Anna, sempre un sentiero delle orchidee. Naturalmente dobbiamo valorizzare tutto quello che di bello può offrire la montagna, tra cui appunto i sentieri. Ci stiamo muovendo in tale direzione e nel senso di valorizzazione appunto della montagna perché è importante far via la montagna anche per come contrasto a questo fenomeno degli incendi a cui siamo sottoposti sistematicamente e stiamo presentando dei progetti. L'iniziativa del Lions di Trapani dal titolo Passi, Colori e Suoni del sentiero CAI M601 si è aperta con l'intervento del presidente Giorgio Geraci che ha rilanciato l'impegno per la montagna di Erice con altre iniziative. Un impegno concreto quello del Lions per la montagna di Erice, per la bellezza, per le mille bellezze di questo luogo incantato. Avete dato seguito ad un progetto avviato l'anno scorso, adesso diciamo che l'impegno continua. Sì, diciamo che in questo momento mi stai mettendo davanti alla possibilità di lasciare una sorta di, come si chiama, qualcosa che si testimone al presidente dell'anno prossimo. Ma probabilmente daremo seguito ancora a qualcosa di bello provando a fare anche degli opuscoli informativi ed educativi nello stesso tempo. È un'idea a cui stiamo lavorando che non siamo ancora sicuri che possa venire fuori quest'anno, però è sicuro che l'anno prossimo questo impegno finiremo per poterlo mantenere. Mi auguro di poterlo cominciare io come presidente del Lions in quest'anno. Un anno sociale molto intenso, sono ancora molti gli appuntamenti che vi aspettano. Io sono contento perché quest'anno è un anno particolare, è l'anno che ci spinge nel futuro. Il Lions compie cent'anni e questo è l'anno che comincia, quindi nel nuovo centenario. Nel nuovo centenario ci sono tutta una serie di innovazioni che dal Lions International stanno arrivando fin qui a noi. Una delle quali è il tentativo di diffondere il più possibile la nostra presenza sul territorio per tamponare laddove ci sono bisogni e dove ci sono urgenze di bisogni. Stiamo provando a fare una serie di partenariati con le scuole, con la Lega Navale, con la squadra di Palacanestro, cioè con tutti quegli enti e quelle associazioni che guardano al bene della popolazione.